L'esercizio di questo video Che stiamo scegliendo x che tende a 0 da destra ovvero da qua E quando diciamo se x tende a 0 da destra logaritmo di x tende a meno infinito E per cui il nostro limite sarà se andiamo a sostituire x uguale a 0 al numeratore otteniamo 0 Al denominatore otteniamo meno infinito Ma voi direte questa è una forma indeterminata No, attenzione, questa non è una forma indeterminata Ah, intuitivamente perché non è una forma indeterminata? Perché qui stiamo dividendo un numero x che è un numero, quando x tende a 0 da destra Un numero che si avvicina allo 0, quindi un numero molto piccolo E lo stiamo dividendo per un numero molto grande Molto grande in modo, nel senso che è meno 100 milioni, mettete conto, c'è un meno davanti Però comunque è molto grande Un numero molto piccolo, se non è molto grande, è ancora più piccolo Per cui è chiaro che 0 diviso meno infinito sarà 0 Come si fa a vedere in modo che sia più chiaro? Se x tende a 0 da destra, abbiamo detto logaritmo di x tende a meno infinito Ma quindi 1 su logaritmo di x a cosa tende? Tende a 1 diviso meno infinito Ovvero quando x tende a 0 da destra Ovvero 1 diviso meno infinito fa 0 E quindi il limite per x che tende a 0 da destra Di x diviso logaritmo di x Che sarebbe il limite per x che tende a 0 da destra Di x per 1 diviso logaritmo di x Fa 0, che è il primo fattore Per 0, che è il secondo fattore Ovvero 0 Conclusione Il limite per x che tende a 0 da destra Di x diviso logaritmo di x È uguale a 0 Con questo abbiamo concluso l'esercizio E se ti è piaciuto questo video Ricordati di iscriverti al canale Grazie a tutti